Se avete sempre sognato di trascorrere il giorno delle vostre nozze in un luogo principesco e incantevole, il Castello di Gornate rappresenta la location ideale. Il locale, ricco di cultura, storia e fascino, sarà lo sfondo dove coronerete il vostro sogno d'amore. Il castello vi offre molteplici soluzioni per l'organizzazione del vostro indimenticabile ricevimento di nozze. La struttura, infatti, presenta spazi interni ed esterni adatti ad ogni esigenza. All'interno si trovano diverse sale arredate in stile classico con soffitti e pareti in legno e grandi colonne. Gli spazi sono luminosi grazie alla presenza di grandi finestre che si affacciano sul parco e vi permettono di trascorrere la vostra giornata in un'atmosfera molto ricercata. All'esterno, la nuovissima area cocktail con piscina, il parco ricco di alberi secolari e il porticato possono essere allestiti per realizzare parte del banchetto all'aperto durante la bella stagione, permettendovi, qualora lo desideriate, di scambiarvi in loco le promesse d'amore e di celebrare, pertanto, un'emozionante cerimonia con rito civile. Tra le mura affascinanti di questo castello e i suoi ameni spazi verdi, potrete degustare un delizioso banchetto noziale preparato da sapienti chef, con ingredienti di stagione e presentato in maniera elegante e creativa. Seguiti e supportati dal personale cortese e professionale de Il Castello di Gornate, avrete la certezza di vivere il vostro giorno come in una favola.